Grande festa in casa Handball Club Modica per la conquista del titolo nella categoria Under 13 misto, alle finale alleanza assicurazioni che si è tenuto sabato scorso. Brillante per la società il risultato raggiunto dai ragazzi rosso-blu alla loro prima stagione agonistica. Adesso la convinzione che scatterà la pallamano-mania nella città della Contea con grande voglia di fare meglio da parte dei giovani sportivi. Sono stati ben tre i premi individuali assegnati dalla giuria tecnica, al miglior portiere Thomas Ruta, al capo cannoniere Yuri Sigona e alla migliore giocatrice Emma Incardona. A preparare gli atleti durante gli otto mesi di attività che hanno preceduto le gare, il tecnico Enrico Parisi assenza. Innanzitutto va fatto un plauso a questi ragazzi, ha dichiarato assenza, per l'impegno e la dedizione profusi durante tutti gli allenamenti. Poi c'è da ringraziare il gruppo genitori che non ha mai mancato di supportare la squadra e la società durante tutta la stagione. Per quanto mi riguarda sono orgoglioso dei miei ragazzi e delle mie ragazze che hanno permesso a tutta la società di vivere emozioni uniche. La Handball Club Modica in questa stagione, oltre all'Under 13 misto, ha partecipato al campionato regionale Under 15 maschile che è servito ai ragazzi per fare esperienza anche in questa categoria e si è vista una costante crescita, ma ha anche la voglia di gettare le basi per le prossime stagioni.